ciao a tutti amici del canale bene oggi mi è arrivata la carta di grad che ho mandato a gradare eccola qui appena arrivata ok vediamo che voto ha preso ricordo che innanzitutto che la carta è quella del art collection che è uscito nel 2016 solo in giappone e questa è la mia prima volta che invio una carta gradare grad faccio una brevissima presentazione un ente italiano che grada le carte e io ho selezionato il servizio quello l'ha espresso di cinque giorni che è un supplemento di 4 euro e il servizio la standard che per gradare le carte costa 15 euro con un supplemento di 4 euro poi ovviamente escluse le spese di spedizione di annato ritorno quindi in totale mi è venuto a costare sul sito di grado tra spedizione di ritorno e servizio espresso più il servizio per gradare 26 euro più 7 euro di spedizione di andata per spediti appunto la carta ok vediamo un attimo ok mi hanno spedito indietro anche l'involucro nel quale io avevo inviato tranne che mi sembra io avevo inviato anche un box una tin dei calciatori vabbè non mi è ritornata magari li posso contattare e farmela inviare perché comunque mi serve allora vediamo un attimo forse si è spoilerato già il voto ragazzi purtroppo però vediamo un attimo allora vediamo com'è andata questa volta ok allora il case è bellissimo ragazzi molto sottile vediamo un attimo allora vediamo cerchiamo di coprire un attimo così eccola qui la carta 3 2 1 vai gemmint ragazzi mamma mia che felicità ragazzi sono veramente molto contento ecco qua adesso si vede decisamente meglio allora ragazzi parlando del case il case è bellissimo molto molto bello credevo in qualcosa di molto più cheap possiamo dire così invece ragazzi è fatto veramente benissimo e beh allora che dire io vi spiego un po la mia esperienza come è andata con grad innanzitutto questa è la gradazione standard quindi c'è anche un'altra che costa però 50 euro e secondo me è un po troppo esagerato come costo perché vi da due voti il corolla standard più quello la digitale adesso non so come facciano penso che scandalizzino la carta con qualche macchinario specifico per fare una cosa del genere ma credo che sinceramente sia una cosa superflua insomma mamma mia bellissimo anche il logo qui di grad c'è il quercode per vedere sul sito per verificare appunto la il voto che ha ricevuto la carta qui c'è il bollino di grad olografico ragazzi questa è una grandissima carta grandissima grandissima carta mi sembra abbastanza resistente il case bello 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 ragazzi questa è la mia prima carta come vi dicevo all'inizio del video e bene sono molto contento ripeto allora vi spiego un po come è andata la mia esperienza con grad avevo spedito il 2 novembre e allora è arrivata il 3 praticamente oggi siamo al 12 diciamo così non ci hanno messo proprio cinque giorni ma magari un giorno in più sei giorni però dai ci sta solo che io l'avevo spedita nel team collector dei calciatori adesso non so se hanno dimenticato di inviarmelo oppure se lo sono tenuti però magari invierò una una mail dove magari gli spiego che comunque a me serve magari in un prossimo invio di qualche altra carta magari me lo faccio ritornare indietro bene ragazzi io mi sono trovato benissimo poi vediamo che rispetto a psa mi sembra che la slivano la carta si sta nella sleeve è per molti questa è una cosa fondamentale vediamo un attimo se ce l'hanno messa a mi sembra di di no che non ci sia la sleeve vediamo un attimo no vabbè poi verificherò dietro bene meglio dopo perché adesso c'è il telefono davanti che sta riprendendo ma però vi faccio vedere anche a voi mi sembra che non ci sia la sleeve che protegge la carta vabbè comunque ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto beh il voto incredibile 10 gem mint veramente molto molto bello il case la carta in questione è veramente la carta mostruosa e niente io vi consiglio di mandare ripeto questa è la mia prima esperienza con grad sicuramente in futuro manderò qualche altra carta però non credo di inviare ancora quelle la più famose vedremo quelle la più costose insomma perché in futuro vorremmo andare qualche carta bgs o psa adesso vedremo un po per il momento non se ne parla perché ci vogliono 5 6 mesi e sinceramente io per aspettare 5 giorni cioè sono stato in ansia tutto questo tempo per sapere il voto che avrebbe ricevuto poi questa carta e figuriamoci 5 6 mesi un tempo troppo lungo vabbè ragazzi io vi saluto mi invito a mettere mi piace ed iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima ciao